... Dobbiamo celebrare, anche se ancora non è arrivato nessun tipo di titolo, però la stagione Gli allievi nazionali del Palermo è una stagione, sino a questo momento, davvero straordinaria perché intanto è arrivata una vittoria, ci sono anche le immagini della partita di Napoli è arrivata la vittoria per 2-0 a Napoli, un anticipo di questa ultima giornata di campionato gol di Simone Lofaso al 35esimo del primo tempo e poi di Galici all'ottavo della ripresa davvero una prestazione impressionante da questo punto di vista per la squadra di Scurto che adesso deve aspettare il risultato del derby tra Roma e Lazio perché? Perché qualora la Lazio non dovesse vincere intanto qui il gol di Simone Lofaso classe 98 e tra l'altro è stato anche convocato tra i 22 per il raduno, il preraduno per la finale del campionato europeo della nazionale Under 17, dunque in bocca al lupo a Simone Lofaso qua invece un miracolo su Galici che poi realizzerà il gol del 2-0 dicevamo che qualora la Lazio non dovesse vincere contro la Roma il Palermo si qualificherebbe direttamente alla Final 8 Scudetto, è già sicuro comunque il passaggio alla qualificazione ai playoff e dunque insomma in bocca al lupo davvero questo è il secondo gol e poi rivedremo anche una bellissima azione del numero 9 della formazione allievi che è Vincenzo Plescia guarda qua, dimmi vedendolo Gianni, chi ti ricorda? Quel portiere fa un miracolo tra l'altro assolutamente va bene, va bene, eccolo qua, questa dunque è la nostra pagina dedicata agli allievi nazionali a proposito di allievi nazionali, Francesco andiamo a vedere anche il selfie appunto appostato alla squadra degli allievi nazionali del Palermo andiamo alla nostra pagina Facebook di Contropiede dopo appunto la bella vittoria contro il Napoli e poi a proposito di giovani talenti che crescono andiamo a vedere un video molto molto carino c'è un bambino che deve scegliere tra Barcellona e Real Madrid, andiamo a vedere cosa sceglie grazie grazie grazie